Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi la presentazione la faccio da qui perché non ho trovato il cartello solo di Luni, ma ci troviamo nella sua frazione che è Casano. Mi trovo qui perché è proprio qui che si trova la sede municipale. Allora, arrivare su anche al borgo di Nicola è tesa, è difficile. In modo però approfitto per dirvi che questi due comuni un tempo si chiamava Urtonovo, questo comune. Fino al 2017, quando hanno cambiato il nome, grazie a un referendum del comune, del paese, e da 2017 si chiama Luni, un'informazione gratuita. Altro punto panoramico, io non sono ancora arrivato in alto, di peso. C'è scritto che stanno facendo dei lavori, quindi la strada è desestata, però ci proviamo lo stesso. Grazie a tutti. Bello, bello, molto bello questo borgo qua. Molto, molto bello. Ragazzi, anche questo video termina qua, spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto, soprattutto il borgo di Nicola. Ma vi ricordo che c'è anche Urtonovo, che dicono che sia molto bello, che è sempre un borgo dove si può andare a visitare. Io ho scelto uno dei due, io ho scelto Nicola questo. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.